Ehi fratelli che cosa vogliamo esatto vogliamo la via guardate miei fratelli la regina no 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 one eternity later one eternity later Grazie a tutti E' lei la nostra via, fratelli Quindi anche se siete in gerga della via Quella è la nostra regina Prodegge della regina Si è decisamente la via Se volete trovare la via Iscrivetevi al canale Run Alla rotonda prendere la seconda ucina Non è possibile Ricalcola il corso Vapangula mammata Madonna vongola Ciao